Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video in cui vi vado a mostrare un altro pezzo altrettanto particolare come il quarzo che vi ho fatto vedere nello scorso video Forse anche due pezzi che hanno la stessa particolarità, vi volevo un po' parlare appunto di questa cosa E il primo pezzo, non mi ricordo se ve l'ho fatto effettivamente vedere un po' di tempo fa perché comunque è uno dei primi acquisti che ho fatto quando sono venuto qua in Belgio Ripeto, non mi ricordo ora se mai ve l'abbia fatto vedere ma penso di no E vorrei partire subito iniziando col dire che per capire bene la particolarità di questo minerale voglio iniziare con il farvi capire un attimo Una delle proprietà, neanche proprietà, una delle cose che può accadere un minerale, un processo che un minerale può subire, ovvero quello del pseudomorfismo E che cos'è esattamente lo pseudomorfismo? Lo pseudomorfismo è quel processo in cui un minerale si va ad alterare in un altro minerale Prendiamo il caso, ad esempio, che abbiamo qua un esempio classico, la pirite, come questo cubetto che vedete qua Mettiamo il caso che questo cristallo di pirite, nell'ambiente in cui si è formato, le condizioni che ne hanno permesso lo sviluppo e la crescita Cambiano Bene Non essendo più condizioni ideali alla crescita di questo cristallo di pirite, la pirite si trasforma in limonite Come in questo caso, dove abbiamo una pirite Metto bene a fuoco Una pirite pseudomorfa Quindi una pirite che si è alterata Perché parliamo comunque di un'alterazione Si è alterata e si è trasformata in limonite La limonite, però, ha mantenuto la forma, come si nota da questo pezzo La forma del cristallo di pirite, la forma cubica Quindi abbiamo il cristallo cubico di pirite, il cui minerale pirite viene sostituito dalla limonite, ma la limonite mantiene la forma cubica della pirite Quindi questo qua, ragazzi, è il processo del pseudomorfismo Qua abbiamo una classica pirite di navaglio, qua abbiamo appunto il classico cubo di pirite pseudomorfa, che in realtà è limonite Un bellissimo cubettone Bene Ma Mettiamo il caso invece che non va a cambiare la condizione E che quindi Si forma dapprima un tipo di minerale, come ad esempio il quarzo E poi si forma un secondo minerale In un secondo tempo, come ad esempio in questo campione di quarzo, la tormanina E abbiamo quindi, che cosa? Un'associazione E in questo caso, questa è una cristallizzazione, un tipo di cristallizzazione, un'associazione Quindi non si parla comunque più di un vero e proprio processo Quindi abbiamo visto un minerale che viene sostituito da un altro minerale e ne mantiene la forma Oppure un minerale che si sviluppa su un altro minerale E quindi si parla di associazione, come in questo caso qua In cui abbiamo questo bellissimo quarzo con tormaline Ma Mettiamo il caso, ad esempio, che queste tormaline Non trovano più una condizione che appunto ne permetta la cristallizzazione Che cosa succede in questo caso? Succede che il minerale inizia a dissolversi Perché non ci sono più quelle condizioni Anzi, si sono formate delle condizioni avverse Che non è che fanno alterare il cristallo Ma bensì lo fanno proprio dissolvere Questa è una cosa che può succedere Quindi fanno dissolvere il cristallo E quindi, faccio capire meglio Si dissolve quindi il minerale secondario e minerale associato E quindi rimane solo il quarzo Ora, può succedere, come diceva appunto, che un cristallo si dissolva Un esempio lo ritroviamo in questo quarzo Che forse vi ho già fatto vedere in qualche altro video Questo bellissimo cristallo di quarzo Dove abbiamo, come vedete, questi cristalli che sono dissolti Vedete? Qua non è rotto Qua, ragazzi, è proprio così Come vedete Il cristallo I cristalli sono dissolti No? È rimasta solo una parte dei cristalli e si è dissolto Lo vediamo meglio Però, ad esempio, in questo buco che si trova qua Vedete? Anche qua, in questo caso Il quarzo ha iniziato a dissolversi Vedendo da questa prospettiva questo cristallo Vedete? Il quarzo ha iniziato a dissolversi E quindi Appunto Da qua vediamo a capire che Può anche succedere questo Quindi un minerale che si va a dissolvere Ma mettiamo il caso, ragazzi, che Ritornando all'esempio dei due minerali associati Si dissolve completamente solo uno di questi due minerali Si dissolve quindi uno dei due minerali Il minerale, diciamo, quello, per esempio, primario Perché è in questo caso il minerale primario Sulla quale si è formato il minerale secondario E rimane solo il minerale secondario Quello che si trovava sui cristalli che si erano formati Diciamo, in origine Bene E rimane quindi solo il secondo minerale Che Pur avendo Pur non essendoci più il minerale Su cui si era formato Ne mantiene le forme Che ormai ha preso Man mano che si accresce il vostro lato cristallo Che cosa succede? Che si ha appunto un campione come questo Molto particolare Come vedete Ma vediamolo meglio Questo qua, ragazzi È un campione di Prenite Molto sicuramente di Prenite E Osservandole, ragazzi Sicuramente potrete notare Potrete convenire con me Una cosa Ovvero che ci sono queste cristallizzazioni Tipo cave Che ricordano quasi una folgorite Ma non è questa una folgorite È Prenite, come dicevo Quindi Come appunto delle cristallizzazioni Cave all'interno Vuote all'interno E addirittura qua si intravede pure una forma Cubica Vedete Un bel cubo Ma Vedete All'interno non c'è niente Quindi Questo pezzo qua, ragazzi Questo particolare campione È un campione quindi Che presenta questa caratteristica qua Si era formato Su un altro minerale Che in questo caso Erano due tipi addirittura Di minerali Abbiamo Queste forme allungate Che potevano essersi Accresciute sopra cristalli di quarzo O cristalli di tormarina Anche qua Questa forma qua È questa forma cubica Che quindi poteva essere Una fluorite O Non lo so Una pirite Quindi C'erano due mineralizzazioni Due minerali sotto Si è formato questo sopra I minerali Che si trovavano sotto Si sono dissolti Ed è rimasto Solo questo Campione qua Solo Il minerale Che si era formato Sopra Che ha mantenuto Le forme Di minerali Che c'erano sotto E quindi abbiamo Queste forme allungate La forma cubica Qua Vedete È vuoto Da questa prospettiva Si vede che La parte cubica È vuota È completamente vuota E Anche le parti cave Forse da qua Si nota un po' meno Ma Da qua ragazzi Vedete Ci sono tutte queste Forme qua Cristallizzate Che sono Forme Cave Quindi Può succedere Questa Particolarità Quindi È questa La particolarità Di questo campione Si è formato Su un altro minerale Poi l'altro minerale Si è dissolto Ed è rimasto solo questo Con le forme Dei minerali Di sotto Ora Non mi ricordo Adesso Il termine esatto Con cui si descrive Questo processo E Non ho mai visto Altri campioni Del genere Però È una cosa Che può succedere E Infatti Ho un altro Campione Che presenta La stessa Particolarità Che adesso Vi faccio vedere Però Prima di farvi vedere Quel campione Appunto Questo qua È il Quello più bello Anche l'altro In realtà è bello Però è quello Più particolare Perché Addirittura Qua c'erano Due tipi Di minerali Che poi si sono Dissolti Quindi Questa Prenite Penso Indiana Quindi Chissà Che pezzi C'erano sotto Che minerali C'erano sotto Se voi avete Qualche idea Scrivetemelo Nei commenti E magari Se c'è qualcuno Di voi Che mi segue Da tempo Scrivetemi Se ve l'ho mai Fatto vedere Questo pezzo O meno Perché Non mi ricordo Adesso E niente Adesso vi faccio vedere Qual è invece L'altro pezzo Con la stessa Particolarità Allora L'altro campione Con questa particolarità Ha anche su una doppia Particolarità Se così vogliamo Adesso vi faccio Capire perché Il campione E' questo qua Questo Non ve l'ho mai Mostrato sul canale Però ce l'ho Da Qualche mese Diciamo che l'ho Comprato in un mercatino Natalizio Che si è fatto qua Apparentemente Sembra Una classica Drusa Diametista Con Appunto Questo bel cristallo Di calcite sopra Neanche magari Completo Cristalli Diciamo Più o meno Integri Più o meno Integri Ma Per capire La particolarità Di questo pezzo Lo devo girare Così E come vedete Ragazzi Anche in questo caso Sono rimasti Impresse Delle forme Di un minerale Che si era formato In precedenza Questi due Cristalli Qua No In questo caso Il minerale Che c'era prima Era La calcite Come ad esempio Questo cristallo Scalenoedrico Infatti Vedete La forma La forma è Praticamente Quella Le due facce Sopra Le due facce Sopra Quindi c'era Appunto Dentro O meglio Sotto Sotto Questi campioni Questo campione Diametista La calcite La calcite Si è Dissolta Scusate se parla Un po' Così a scatti La calcite Si è un po' Si è poi Dissolta Ma La drusa Ne ha Conservato Le forme Come vedete È rimasta La forma Dei cristalli Di calcite Ma ragazzi Si è ricreata Di nuovo Sopra Cioè C'era la calcite Scalenoedrica Qui sotto Si è dissolta Perché appunto Non c'erano più Le condizioni Ideali Ma si è poi Riformata Sopra E quindi In effetti Questa è anche Una doppia Particolarità In più ragazzi Cioè Questo Questo tipo Di ametista È il Classico Tipo di ametista Che Viene ricavato Dai geodi Brasiliani Infatti Non so se Bene siete acconti Ma Tutta questa parte qua È verde E normalmente Un ametista Appunto Brasiliana Ha La La parte di sotto Verde Perché È appunto La parte esterna Del geode Dalla quale Quella drusa È stata ricavata Ed è così Anche in questo caso Ragazzi Solo che In questo caso Particolare Addirittura C'era Un qualche C'erano dei cristalli Di calcite Su cui Si era accresciuta Questa Ametista E non riesco Proprio a immaginare Il geode Dalla quale Questo pezzo È uscito fuori Come si presentava Se c'era qua Uno spazio vuoto O se era rimasto Praticamente Solo Solo la matrice Che sarebbe Il basalto La roccia vulcanica E appunto Si è dissolta Ma È rimasta Impressa la forma Appunto Sulla base Della drusa di ametista Ma Qua addirittura Poi Quel minerale Che si era Dissolto Appunto Si è andato A riformare Sopra E quindi abbiamo La metista Con la calcite Ma Con Una grande Particolarità Questi calchi di cristalli Che si trovano Alla sua base Quindi ragazzi Questi sono i due Due dei pezzi Più particolari In assoluto Che ho in collezione Dopo Quello dell'altro video Che avrete sicuramente Già visto Quello appunto Penso Spero Quello appunto Rotto E ricristallizzato E appunto Dopo quelli Ecco Questi pezzi qua Minerali Formatesi su altri minerali Che poi Si sono dissolti Ma hanno mantenuto Le forme di quei minerali Che si trovavano Sotto Che è una cosa Simile Allo pseudomorfismo Dove appunto Il cristallo In questo caso Di pirite Si va Appunto Mena appunto Sostituito Dalla limonite Che ne mantiene Però la forma Quindi È un qualcosa Di simile Dove appunto C'è Una qualche reazione Che E quindi Si passa Da un minerale All'altro Solo che In questo caso Appunto Non c'è nessuna Di soluzione C'è Un passaggio Da un minerale A un altro Ma Il minerale Resta sostanzialmente Mentre appunto In questa tipologia Di campioni qua Appunto Il primo minerale Quello da cui si parte Poi si dissolve E resta solo Il secondo Minerale E quindi ragazzi Questi erano Altri due minerali Super particolari Della mia collezione E niente Quindi scrivetemi Nei commenti Che cosa ne pensate Se vi piacciono Questi campioni Se avete Campioni simili Ovviamente Diametista Di prenite O di qualunque Altro tipo Di minerale E niente Ragazzi Se non l'avete Ancora fatto Lasciate un bel Pollice in su Per questo video E ragazzi Come sempre Iscrivetevi al canale Se non l'avete Ancora fatto Dimenticavo E noi ragazzi Come sempre Ci ripetiamo In un prossimo Video Ciao Grazie.